Fantastico sapere come oggi la nostra collezione di prodotti vintage sia qualcosa che supporta l'azienda, che supporta l'heritage, che è qualcosa che teniamo stretti. Riusciamo a fare un percorso che parte dagli anni venti e arriva al 2020, perché abbiamo voglia di guardare avanti, ma anche di trovare quello che era il nostro passato, il nostro DNA, non solo come famiglia, ma come azienda. Per la prima volta possiamo documentare quello che è un restauro di una vecchia trust del nel 1964, negli Stati Uniti un tempo, soprattutto negli anni cinquanta, le donne andavano al cocktail e adoravano questo tipo di trust. Ritrovo tutto il DNA di Buccellati, tutte le tecniche di Buccellati, dall'arregatura, l'atterratura, all'ornato, all'incastronatura delle pietre, è tutto. Ogni dettaglio di questa trust è lusso, puro lusso. È un godimento personale di chi ce l'ha. Grazie a tutti. Grazie a tutti.